Ehi, ciao ragazzi, sono Vinci449TV e oggi siamo qui su Pokémon Masters. Allora, io, di la verità, l'ho scaricato ieri perché io non me ne sono accorto che comunque siamo andati a casa. Non me ne sono accorta che era uscito perché non savo se scaricasse solo internet e quindi va. Comunque, ovviamente faccio il personaggio, l'unico che ultimamente sto adorando, siccome sto adorando le versioni fatte da internet su Aptoid e ci gioco. Sto giocando tipo la versione telefonica fatta da Aptoid a Pokémon Smeraldo. Aptoid a Pokémon Smeraldo che è veramente una figata. Comunque ci vediamo dopo in Doppland assoluto, visto che non possiamo aspettare così tanto. Comunque ragazzi, mentre si fa in Doppland, volevo dire che se volete dei video, una serie, un gameplay in cui vi faccio vedere queste versioni fatte da gente per telefono di questi giochi Pokémon, io ve li porto. Ho portato tipo Ultra Skies, Gaia, Gladys e cose del genere e poi non mi ricordo, però posso portarvi anche Pokémon Rumble Dash che ho scoperto due giorni fa. e Pokémon Quest che non ci gioca veramente da tanto e quindi avrei pensato che se voi volete una serie, io potrò disinstallarmelo e installarmelo in modo da portarlo tramite tipo gameplay, se volete. Comunque... Comunque... Comunque, piccolo spoiler, ovvero che uscirà un nuovo spacchettamento su Food Game, sto correzionando abbastanza pacchetti, però anche di quelli più buoni. non solo quelli, non solo quelli, la special, che troppano sempre, però... non sono quelle cose che troppano più. E niente. Comunque, ultimamente non sto ubicando tanto, diccome non ho pre-registrato molto, sto organizzando anche alla scuola, ho avuto anche da farmi, quindi... Comunque, ci vediamo direttamente quando andrò pronti a fare. Oh, finalmente! E' l'attimo come ho avuto nel mondo di Podium. Io sono blu, il Natale del talento eccezionale. Per una cosa dimmi come si chiama, io mi chiamalo. Ben... E... Giali, sembra di Giali, ma è una finestra di Giali, Cisco è un European. Trazgaro, vai! E' una bella persona, però... Bene bella persona, che aspetto all'appuntamento più esclusivo dedicato a noi allenatori di Polished. Il World Pokémon Masters o WPM Il WPM, Torneo, su allenatori provenienti da tutto il mondo si affrontano a squadre di tre contro tre e non c'ho amici Ogni allenatore può mandare in campo un solo Pokémon e per vincere serve un gioco di squadra eccezionale Durante la tua avventura incontrano tantissime allenatori e non c'è, non c'è, non c'è, non c'è non c'è, non c'è, non c'è, non c'è è benissimo è molto molto amaro Comunque ho un Pikachu bello come star bella prima andavo cliccare? io sto già cliccando piacere di conoscerti, io mi chiamo T e sono la receptionist del bello scoccio di dire il nome quindi tu sei bella persona e vuoi partecipare al WPM insieme al tuo Pikachu, giusto? allora questo è per te un po' di GoFo, no? vabbè qual è? è un dispositivo indispensabile qui a Pasio contiene tutte le informazioni di cui hai bisogno cioè sì ma nel WPM si rotta squadre grazie al fuoco di GoFo non potrai contattare le altre unità per formare una squadra immattibile a proposito, unità è una problema speciale chiuso a Pasio per indicarmi a me un po' di squadra per caso stai cercando dei compagni di squadra ma che ci penso, le unità stavano giusto cercando qualcuno per la nostra squadra le contatti subito buon bello ciao ci hanno detto che anche tu stai cercando altre unità per partecipare al fuoco accorta pure su di noi bella persona facciamoci valere al WPM ma ti raccordi che anche tu mi visti allora dico io non è che non ho mai visto cioè non è che ho visto tutta la sera vedere ma vi giuro che questi di qua me li ricordano bene lo so ora mi avrete detto che non ho mai visto cioè non è che non l'ho mai visto io li ho visti alcune cose dei Pokemon ma non me li ricordo d'altro bene gli episodi perché ho visto che conoscivano da dal culo mi ha detto che è Onyx mi ha detto che è Onyx però non siamo finiti ma non è cotto la tutta non è proprio buona quindi avventura storico ho sbloccato un capitolo ma non ho fatto iniziare capitolo non lì c'è ricco di speranza si comincia si comincia possiamo accentrare l'accentra 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 è più grande si basta non poterò non poterò l'accentra 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 esatto esatto se volete lottare ma che altro giorno vogliamo lottare come una bambina come una bambina se c'è un'occasione non ho fatto l'accentra non ho fatto l'accentra non ho fatto l'accentra non ho fatto l'accentra ma devo lottare bella persona bella persona bella status volevo dire bella vuoi stare questa cosa non ho fatto l'accentra non ho fatto l'accentra non ho fatto l'accentra non ho fatto l'accentra ma non ho fatto l'accentra chi sono? quelle due e poi sono molto sexy le due facciamo solide ma la pause di rotte io uso questo che mi dice in gioco non è morto Debole bella e non è Debole che lo sai lei questo è stato un'assistant per il corpo mi piace che cosa non ho fatto l'accentra non ho fatto l'accentra è molto interessante te sai che fare tu sai cosa fare cosa puoi fare il nostro corpo non ho fatto oh no no stigano ok 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 no Vittoria sono troppo forte Ma di bello si chiamano? Cazzo è table? Ma non voglio capire cosa scuola dice, non mi sapele quale questa roba Bello sto bello Ti faccio Ti faccio Chi è quella a sinistra? Ma da dove vengo? Ma da dove vengo? Perché è Pokémon di merda Ma devo anche toccare il Pokémon e vedere che devo bersagliare Non è vero Niente E' vero E' vero E' vero Ma che chi è? muore! muore! che peccato! quanto sono secchi? sì, ho fatto che peccato perchè i ragazzi non possono farvi vedere la testa ho finito capito e vabbè ho già l'evolucito non ho accanto vediamo cosa mi da tante cose vabbè ragazzi io dico perchè volevo dire che questo video finisce qui ma non posso perchè mi parte proprio un altro rango bella persona ti vedo bella persona rina si siamo invece di rinconoscerti bella persona rinconoscerti 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 vorrei vabbè che non rinconoscerti Allora, la prima cosa da fare è il modo migliore per conoscersi, non è che tu bella persona Ok, spero che con questo non mi faccio cliccare proprio di diritto, che vorrei chiudere, grazie Il boss, è il boss contro Rin e i due tizi che non si sa, sono Parte la sfida di Rinna Io uso, che cazzo ho sparato, sperano molto, ahhh capito, voglio sparare a cazzo, vai, crepa, b**ch Oh ragazzi, ho sparato solo lei, solo quello che c'entra, è un mortale Non muore, no, non muore No, c'è qualcosa di buono, non mi metto, non c'è qualcosa di buono C'erano, 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 quindi non posso Oddio Ragione, in Italia è l'erba No Storvi Storvi Eh, vabbè Ha fatto male a tutti, non ce la storno, ma oddio E uso una pozione, su questo coso Vai Bolla a raggio Vai, bolla a raggio Ce l'ho capito bene Sì Vì Eh, vabbè E vabbè Che peccata Usiamo il turno a shock, poi Sì Direi che Sì Sì, ma stai calmo Sì, ma stai calmo, bello Non è utile partire di quattro Non stiamo calmi Eh, giustamente Quello fa tre di te Sì Abbiamo vinto 15 minuti della mia vita spesi bene Ma anche di più perché il nome l'hanno tagliato Sì Vittoria Nivelo 6 Grande 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 Ma comunque ragazzi Con questo boss Spero che il video possa finire Spero che il video non devo fare un'altra mezz'ora Se questo video è... No, 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 aspetta No, no, no No Facciamo vedere questo Aspetta Mi faccio i saluti Eh, come... Volevo dire il suo... Ah, vuole entrare nella nostra squadra Con piacere Basta che mi dà una bella... Non posso dire questa parola perché sono famigli di prendere le bui di... Oh Seguitemi allora Siamo in spiaggia Andiamo bella verso... Questo video comunque finisce per Spero che vi sia piaciuto Lasciate un like E commentate Se volete la seconda parte Io anzio non lo vedo Però... Comunque... Iscrivetemi se non l'avete ancora fatto E mentre questa tizia mi parla Io non la capo più manco per il pene Che cosa? Sì, sì, mi piacciono molto Però... Scriviamola perché non mi interessa E allora ragazzi ci vediamo in un prossimo video Bella